In cosa consiste il suo lavoro? Io insegno all'università e contemporaneamente faccio anche ricerca, diciamo, nel mio campo di studi, che è quello della meteorologia, della fisica del clima e della fisica dell'atmosfera in generale. Perché hai deciso di partecipare a Scienza Attiva? Credo che sia un'iniziativa molto buona, molto importante, in quanto mette in contatto l'ambiente universitario con i ragazzi delle scuole e magari riesce a far capire meglio certe tematiche che sono trattate molto diffusamente dai mezzi di comunicazione di massa, sui giornali, sulla televisione, però non con il rigore scientifico che dovrebbe essere usato. I cambiamenti climatici sono effetto delle attività umane? Sicuramente sì. Le attività umane hanno un grosso effetto sui cambiamenti climatici, in particolare sul riscaldamento che si sta verificando da quasi 30 anni a questa parte. Cosa significa fare ricerche sul clima? Fare ricerche sul clima è una cosa molto difficile. Molti pensano che la meteorologia e il clima siano due sinonimi. In realtà non è esattamente così. La meteorologia significa studiare il tempo. Fare clima, o meglio, studiare il clima, significa studiare la fisica, la matematica, che stanno alla base del tempo meteorologico, ma anche occuparsi di paleontologia, di biologia, di geologia. Citando il titolo di una sua recente mostra, secondo lei i tempi stanno cambiando? Eh sì, i tempi stanno cambiando. Tra l'altro questa espressione ha tanti significati. Il significato più, diciamo, inerente alla mostra è quello del tempo meteorologico, e quindi, parlando di tempi lunghi, del clima che sta cambiando. Il clima è sempre cambiato, però è il ritmo del cambiamento che può essere preoccupante. Se dovesse descrivere il suo lavoro, che aggettivi userebbe? Difficile, perché trovo che sia una cosa difficile comunicare la scienza a una persona che non la conosce. Direi anche affascinante, perché qualche volta io ricevo molte soddisfazioni. Quando un mio studente si laurea e i colleghi, o lui stesso, ne escono molto soddisfatti, io ne sono molto orgoglioso, insomma. Ha un aneddoto da raccontarci relativo al suo lavoro? Di aneddoti ce ne sono sicuramente tantissimi. Mi ricordo un giorno particolare, il 17 aprile del 1991, in cui c'è stato un episodio di freddo intenso improvviso in tutta la pianura padana, a Torino è nevicato. Siamo dovuti andare in campo a fare delle misure sperimentali. Nonostante il fatto che io avesse ricordato che c'era la possibilità di avere tempo cattivo, ci siamo beccati prima una bella lavata, perché prima di nevicare è piovuto, e dopo tornando abbiamo trovato la neve, scene di disperazione di gente in bici, in maniche corte, che tornava sotto la neve a casa. Un piccolo aneddoto, io lo ricordo adesso con divertimento, all'epoca non tanto. Un piccolo aneddoto, un piccolo aneddoto,